Ciao a tutti! Allora, oggi siamo qui per fare un altro video sui classici, come avete visto dal titolo. Non ho da mostrarvi la copia cartacea perché li ho letti in ebook, quindi vedrete la copertina, l'anteprima del video e basta. Ma l'importante è parlare dei libri. Ho approfittato del fatto che ho letto due classici Pulcessa e Ferma che muovi tutto. Ho letto due classici proprio ultimamente, quindi ho approfittato e parliamo un attimo di quelli perché uno in particolare mi è piaciuto tantissimo, l'altro ha iniziato con un picco, poi vabbè, adesso vi dico. Allora, il primo che ho letto è I viaggi di Gulliver di Swift. Cosa dirvi di questo libro? La storia più o meno la conoscete tutti perché appunto parla di Gulliver che racconta la sua vita entra e intraprende in questo viaggio imbarcandosi su una nave come chirurgo di bordo. Da qui lui compierà un sacco di viaggi che lo porteranno in giro per il mondo e questo è solo il pretesto per raccontare tanto altro. Perché, come dirvi, questo non è un libro per ragazzi, come si crede. Non è solo un romanzo di viaggi ma è un romanzo soprattutto satirico dove c'è tantissima fantasia e questi incontri con popoli molto curiosi come per esempio appunto i Lillipuziani ma non solo perché c'è anche il popolo dei cavalli razionali che troverete alla fine del libro che è quello più strampalato secondo me, quello in cui ci ha messo più cose all'infuori di testa proprio e quindi è un libro che mostra, che ha una critica della società e del comportamento umano di quel tempo siamo c'è nel Settecento. L'ho trovato un po' noioso proprio perché, allora, se all'inizio voi siete un po' presi da questo viaggio che fa e al racconto dei Lillipuziani più che altro perché forse è il più conosciuto e noi abbiamo in mente forse cartoni che l'hanno ripreso però anche io ho dei ricordi su questo anche libri, quelli della Demetra dove riprendevano un po' anche questa storia e quindi forse si legge con un altro, lo leggete con un'altra testa perché avete in mente anche altre, avete già in mente la storia poi un po' alla volta lo stile può diventare dell'autore un po' è un po' stucchevole, dopo un po' vi, secondo me, appesantisce un po' perché appunto, essendoci questa critica della società Gulliver vi racconta nei vari posti dove si trova gli usi e i costumi di quel posto facendo appunto questa critica della società e quindi va sempre sottolineando questi aspetti in ogni popolo che incontra e diventa un po' ripetitivo in alcuni punti, secondo me e quindi poi si riprende verso la fine questo è quello che io ho trovato nel libro nella mia edizione c'erano anche alcune figure e ho letto l'edizione della Newton Compton, devo dire e non l'ho trovata difficoltosa e l'ho letta senza particolari problemi poi l'altro libro che ho letto è bellissimo, che non so perché non l'ho letto prima è Canna al vento di Grazia dell'Edda e è un premio Nobel precisamente del 1926 e si capisce perché è un premio Nobel perché è un libro davvero bello e vorrei leggere altro di suo perché perché mi è piaciuta tanto e in Canna al vento c'è quella malinconia quella tragicità che piace tanto a me Canna al vento è ambientato in Sardegna e la cosa più bella che colpisce subito secondo me è la descrizione dei paesaggi della natura e riuscite a percepire proprio l'odore e i colori e appunto dal titolo Canna al vento io ho letto dei passaggi dove vedevo proprio anche il vento non lo so però a me è successo così e appunto le protagoniste o meglio il protagonista è Efix che è diciamo il servo di una famiglia anche se servo non è proprio la parola giusta e di questa famiglia di quattro donne che vivono la loro vita in un villaggio della Sardegna quindi vi mostra la condizione della donna dell'epoca e vedrete come pochi si sono riusciti a ribellare e una di queste quattro sorelle è riuscita a sfuggire da questo padre padrone e a fuggita via arriverà il figlio di una di queste sorelle e diciamo che scombussolerà un po' gli animi del villaggio non soltanto della sua famiglia non succede tanto non accade tantissimo però in tutto questo diciamo che ci sono tante tematiche come la povertà la tematica dell'onore della superstizione delle condizioni di vita di quell'epoca delle donne del villaggio in cui si conoscono tutti infatti anche per questo nascono un sacco di dialoghi neanche dialoghi di punti di vista diversi e appunto gli usi e costumi dell'epoca il modo di affrontare le difficoltà di tutti i giorni e quindi questo verrà fuori soprattutto da Effix che con il suo mondo interiore le sue riflessioni e tutti i suoi pensieri sulla sua vita ma anche quella di chi gli sta vicino soprattutto delle tre sorelle poi verrà fuori appunto tutto questo mondo della Sardegna di quell'epoca sempre con questa vena malinconica e devo dire che io mi sono ritrovata tanto a avvicinarmi a Effix il personaggio maschile e invece che l'ho trovato davvero gli avrei voluto dare una pacca sulla spalla insomma in certi momenti perché sopporta veramente veramente tanto e niente non vi dico altro perché credo di avervi detto a sufficienza per insomma non svelarvi tutto su questa storia la cosa più bella la cosa che più mi è piaciuta appunto è stata proprio lo stile dell'autrice il suo raccontare la natura e il mondo interiore davvero davvero approvata e mi piacerebbe leggere altro perché ho visto che lei ha scritto tanti altri libri e niente suggeritemi qualche qualche altro libro sullo stile di di canne al vento non lo so se c'è qualcosa che mi volete suggerire io sono pronta a qualche lettura classica però possibilmente che non sia troppo lunga sono alla ricerca di classici però che non mi diano che non mi diano troppo che non mi impegnino troppo tempo insomma perché ho paura di non riuscire per via di tutti gli impegni che ho adesso con il lavoro ho paura di non riuscire a mettere abbastanza la testa quindi magari con un classico che non sia un mattone riesco meglio e detto questo vi saluto vi mando un bacio e alla prossima ciao ciao